lo stato individuato da dove? no aspetta aspetta ci proventiamo fai panico è libero? allora aspetta che ti libero no si libero spacco la botola ti miro davanti si si liberissimo è stato a sinistra spacco io mi hai visto da lì a destra no è uscito eh vabbè adesso è ma niente è stato stato sforzato prima a sinistra lui è paro ah no ah perfetto oh io mi troppo mi troppo ushti boia è nell'angolino è nell'angolino c'è mica entrato mica entrato è accanto ok niente se non ci fosse un po' non lo so se non ci fosse un po' se non ci fosse un po' non lo so lì lì accanto lì 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 ahiaiaiaia ok bravo bravo l'altro è dietro di te la testa prendilo disinnesco qua 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 vai 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 ma perché? io ero aiutato su io ero aiutato su però beh lancia una flash e poi vedi la mina lancia una flash vai 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 prendi e corri prendi e corri Dani prendi e corri non devi mirare Dani ma perché c'è il manto guarda il culo vai 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 vabbè prende e poi rialza se riesci come raga come ci provi ci provi ok io raga ho sud guardate il buco guardate il buco dietro dietro dammi dietro porta dietro porta dietro di te lì lì si si lì dove c'è quello lo vedo hai due ying bravo Dani bravo bravo Dani ha vinto ora me li faccio in wallbang a casa vogliamo passare da sopra oh cazzo mi vuol venga a casa in mezzo vabbè vi l'ho detto mi vuol venga a casa in mezzo vabbè vi l'ho detto tipo dove c'è il tavolino dove c'è il tavolino a mirare non lo d'alias di nel dove c'è la bomba guarda eh vedi dove c'è il tavolino sopra hai visto Nick sopra è che c'è sopra appunto eh si infatti vada ma io vabbè da dove è sopra Pagni di via andrà a salire le scale e 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 andrà a salire le scale o sta scendendo ok bravo sali su e poi scendi che tanto hai collegato tutto scende anche uno mi sa e da adesso la traccia da il rets non spottate voi ancora non spottate la c'è il capitan ericchi è il capitan da che parte destra o sinistra no sulla porta sulla porta eh l'hai visto sicuramente l'altro 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 io farei wall non si capire mi metto proprio fuori te stimo che spiega vado intanto all'altra parte allora no o cazzo pari scusa eh qua colpa mia trapezzato mi sessero andando giù dalla dalla finestra e quindi la pulsa qualcuno ha spaccato di da finestra per caso no da ma chi è ma basta a caso ho donato e c'è il suo atto così non non vabbè c'è un po' ragazzo è stato che magari no era capito da poco da tutti non c'era lì no 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 gasp Oh da dietro cazzo che sfigato mi fa di rimpiantare lì bella stascia sembravi diulo più o meno non è che sembra è diulo uno è qua io entro c'è uno lì però mi sa c'è uno tidro non aspetta qua dritto e niente guarda dietro cioè tu guarda lì ok l'ho ri orco niente mi sono messo male io c'è marzio lì bravo 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 disnesco la figlia di sinnesco un po' no parola e vai mi ha avvicinato il fatto della volta dietro ecco per i denti al calabrio ancora ancora aiutare te lo aiuto mamma mamma ok tico arriva arriva no aspetta no niente niente lori ce n'è uno sulla porta no niente è andato via non so se c'è qualcuno lì attento forse il bandit sta facendo il giro forse attento bandit e marchi occhio arriva smoke col pompa arriva arriva lì alla tua sinistra e poi bandit anche bandit bandit e smoke bandit e smoke smoke lì e poi bandit io passerò d'altra parte ok fai giro c'è un altro ah no l'ho visto non spaccare questa finestra non spaccarlo non spaccarlo dove sono? eh dai io mi sa che lo capiremo eh riapriremo, spegneremo eh perchè se io clicco la cosa può andare avanti sta fermo comunque sanda joystick eh ho provato a cambiarlo non sotto ah che ne è uno lì a toni che pari che pari oh l'ora oh l'ora oh l'ora oh l'ora oh l'ora c'è un drone, dronami qua dentro e dimmi se c'è qualcuno che mi buffa bene c'è c'è bandit, c'è bandit chiusa poca vita raga posso entrare ai kogo? raga c'è bandit, c'è la granata vai 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 dronami, dronami kogo, dronami kogo, ve lo c'è qua dentro un po' vai vai no bastardo l'ho messo ma si pare che mette uno un capcan di merda lì io sono ok io l'ho messo ok io l'ho messo aspetta che ho puntato a te devi poter funzionare ma uno l'ho atterrato io l'ho lori? o? no uno l'hai atterrato l'altro l'ho fatto io ah ok perchè sto sparando anch'io per quello ah ok bravo bravo aspetta te hai detto che devi la doveri prima devi la doveri prima usti ule 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 il almeno.it c'è il pulso sulle scale raga in alto non si crede la rietta quanti tra c'è nessun attento sopra e tenta di titolo di aspetta titoli c'è un attento no ma come cazzo ho fatto ma dai non mi puoi dire che il padre è fuori in a proia non sapevo che caro e due cori di un animale il potere colore ma quello lì pensa di essere di gesù ah... c'è uno solo se ne sono due è in fondo a sinistra dietro la libreria perché stavo scendendo riesci di riesci come ho sentito la granata a trossi di matto la voleva la granata al prossimo l'altarets la madonna l'altore l'altore no da dietro dove ho fatto il giro no 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 da dietro si si da dietro ah peccato ah che peccato non da mentale giro da cazzo ci fai in giro mannaggia tutte le direttive dimmi di se era un piano cogo a su aldi dove hai capito c'è la finestra con la d quella in diagonale si quella in diagonale no l'interno è quella da cogo dove sono arampinati c'è un arampinato qua e lab no raga che culo è lì due sono due uno era giù in quel momento davanti alla finestra cioè veramente vai vai esci mici salta esci salta esci mici 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 no no niente vabbè accanto a te madonna la bella ok dico un ex troppato lì in tece mici spagnoli sopra mici c'è uno ed in testa la testa c'è uno e di in m dd diamo mici tenta sinistra anche qua mira mira ok vai destra vai destra no destra destra no 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 lì 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 dici no no si chi si chi si chi si chi si chi maveriche fatto un fatto infarto infarto si bravo mici dove stanno bravo lori l'ultima ragazza non lo so che è scuola è sotto mi sa ma ma cazzo spai e fatemi infarto onara che in broteca sopra dove c'è l'amichi qua ping 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 data dai è qua nonate tutti esti in quattro dai è di è di ancora è di ancora è entrato è entrato nella stanza raga qui dietro uno da l'altra parte no raga no raga interessa la bella sta lì per favore ma si ce la facciamo easy raga eh ho la detta è uccani uccani ma hai fatto credere che era il mio non ci credo sai che sto sparando al pio tram tra il lì dove c'è il buchino a caso è i norto dove si può uscire no c'è un raga buck da dietro raga buck da dietro raga dove son passati io raga dietro buck con un grandissimo coglione leone ma si può fare poco 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 si era dietro bar due qua ad un vado ed espottato il mondo rosso in raccolto qui per te altri 4 non lanciarlo E manca a destra che c'è gente là, no? E' un po' fregato Mick, hai ritirato Sì, gaga Dov'hai, dov'hai, dov'hai? Chirico, ti rimonti dalla finestra la finestra, Mick, mi avevo la camera Oltre a destra, eh, ciao No, no, gaga, no Ce ne avevo due È in persiglia Bottando un sledge C'è un po' il cuore È era un uomo È 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 un uomo Da dove? Da niente Michele? Ok Dica Dica Guarda Stavi morendo tantissimo di pittà Eh lo so Botra Mi sei ancora lì Mi sei ancora lì Eh cogo eh Eh che a me mi fanno Sì 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 Ma dove è che sono a prendere ragazzi Bravo Bravo Faro ma cosa mi convini Faro Dove Michi? Da dove? Da sopra? Eh... Si è troppata Zofia da gota Ah si è troppata Zofia ragazzi Ciao a Dio A me ha fatto No non si è troppata Mi chiede un po' babbo Sì Io stavo coprendo indietro Mi sono visto un moglie E non si può vedere la scena Dove è stato io? Occhio da me Porta principale raga Dove sono morto io per frisa Quindi sono già dentro Sì Raga sono già dentro Sì Quelli in giro Tornati Bravo Alki Che hai fatto? Guarda Jam Sled Sopo Occhio Bravo Dani Faccio il giro Faccio il giro aspetta Arriva riporto Eh ma ha fatto Cioè Zofia è già l'inni Ciao Bravo Alki Ciao è su Manciao da lì Pangate un po' di yogurt un tratto a ragazzo ha aperto la botola qua sopra adesso si droppano aiutami Dani aspetta aspetta quanta ancora c'è ma perchè mi individuano questo? si è troppato raga è lì dietro le bancole la statuina dietro dietro quel mobiletto diciamo fatto? fatto? maverick da me c'è un'altra c'è un'altra c'è un'altra c'è un'altra c'è un'altra c'è un'altra no no raga ma cosa? la cosa? la cosa? ritorna aiutare di tornare però no dai scusate se ho lato no a sinistra fra ehm è andata a me era di 9 vai 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 è andata a me ecco vedi ecco vabbè se vinciamo questo abbiamo il matchpoint sono ancora due rosa 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 io io la testa spettando a capo la nel piccolino qua guardo un po' di cam non ci credo si è bloccato un pezzo di muro dentro al mira non si vede bene ma io no devi farlo da fuori devi da fuori no no non ce la fai mi che ho giocato questa mira è inutile ragazzi uno sopra la con me ci fanno sono andati da bottola di sopra sono sopra sono sopra cogo di mickey prendi da dietro no mickey perché raga c'ho la zofia dentro lì raga mickey dov'era d'altro finito oh mickey dalla bottola fatti zofia dietro il tavolino no ma chi è che è raga siete tutti in giro ho il disinnetto è ancora lì raga zofia è subito vado 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 si si fatelo dalla porta la dietro il tavolino dimmi se sono qua allo dimmi se sono qua che hai fatto saltare oh si fra si sempre lui sempre lui incredibile raga c'ho uno in nato principale si raga dai match point raga ma se facciamo 6 e 7 e 5 e finisce tutto si si botola 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 ancora ho rotto il cazzo se facciamo 6 e 6 si va ai supplementari si no ma no io l'ho detto che con voce arriva con voce arriva la donna ma è scoda sono lì se si è droppato si è droppato doppia cirpa si shh shh bravo mi sono sacrificato io per lasciarla no eh sono morto da botola botola dovrebbe si droppato il no no mickey mickey ci vuole sulle scale torniamo torniamo raga sta mentrando voi siete seduti in giro come al solito raga helpatemi che scagno doveva andare al panico che che ma il mondo popolo non sopra di me raga sta venendo di sopra mi va dietro l'occhio non accanto a me non mi trovi oh oddio ma cosa ma cosa raga ma raga non avete insolvio raga io lo sparo io sparato a calcio in un muro alla sega di cristo no dai ma chi è ma basta fa a calcio no dai ma chi è ma basta grazie a tutti grazie a tutti